Allora qui abbiamo praticamente il mitico Andrea Bressi, proprio mitico è la parola giusta perché lo vedete ormai girare ovunque, siamo a Cleto davanti al Bar la Grotta per questo insomma concertino spettacolo di fine estate. Ma io ho sentito dire che Andrea Bressi ha una storia che è stata scritta da una persona di cui non facciamo il nome, quindi Andrea Bressi nasce e cresce, com'è la questione? Nasce e cresce tra libri, cassette e strumenti che trattano della tradizione. La tradizione però tu la reinterpreti perché noi abbiamo anche degli strumenti che vedremo questa sera che sono reinterpretati da materiali di scarto, non possiamo dire che cosa, lo dovete vedere, lo dovete invitare da Andrea Bressi, Andrea Bressi canta storie per farvi capire che cos'è la tradizione reinterpretata. Tu poi sei uno che gira tantissimo la Calabria e non solo, stasera cosa vedremo qui a Cleto? Stasera c'è un Andrea canta storie perché ho messo insieme la mia ricerca e la mia improvvisazione. Allora rivive appunto il canta storie che è questo poeta ambulante che un tempo era il telegiornale quindi portava tristi e buone notizie. E io voglio raccontare delle storie che non si conoscono, come quella di Kotsu, questo bambino disobbediente che quando la mamma gli chiedeva vai a prendere la legna, lui rispondeva mamma non posso, mi do lo Kotsu. Quindi insomma questa sera vedremo delle storie, ma ci fai sentire della musica anche adesso un intro di quello che, non so, andremo a sentire o ci vuoi improvvisare qualcosa? Tu sei un improvvisatore, tu sei uno che vede una donna improvvisa... Vieni da notte, vieni da privato, vieni da ore e sera, vieni da amico, vieni da notte e lì scalo, un'evaso, la porta che mi parla, lo paradiso. E da per la bella mia ho ben mangiato, ma ne vediamo noi il viso con il viso, ma se per caso la tua mente va su, e l'amore mi dava io un paradiso. Andrea Bressi canta storie, cercatelo su Facebook, cercatelo sui social e comunque chiamatelo perché Andrea Bressi non si ferma mai, nemmeno d'estate, nemmeno d'inverno. Questa sera non sono solo, ho una valida spalla che è Daniele Mazza, con cui condividiamo tante belle avventure suonate e da oltre 15 anni che insieme portiamo la nostra musica in giro per il mondo. Quindi ragazzi cercateli, cercateli, Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto, Andrea Bressi e Daniele Mazza. Buona serata a tutti! Ciao! 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 Ciao!